Io dico, l'anno scorso eravamo chiusi, quest'anno stiamo lavorando, per cui prendiamo quello che possiamo e facciamo i conti alla fine. Io perdo lavoro con le cene aziendali, però qualche tavolo libero c'è e di conseguenza qualche cliente tradizionale ti chiama venerdì o sabato e il tavolo lo trova e quindi occuperemo gli spazi che perdiamo, non completamente ma in parte con questi clienti tradizionali. Piuttosto delle chiusure dello scorso anno, meglio lavorare anche se bisogna fare i conti con qualche disdetta. Avevamo chiaramente molte frontazioni su dicembre, come ogni anno, ne abbiamo perse parecchi in queste ultime settimane per il discorso dei non vaccinati. Stiamo perdendo anche una parte di clientela che ha un po' di paura, un po' di preoccupazione per quello che legge, per quello che sente. I ristoratori di Vicenza si preparano al Natale, certo impensabile tornare ai livelli pre-pandemia, ma lavorare è già importante, questa è l'opinione comune. Per il momento non abbiamo nessuna disdetta, ci auguriamo che le cose vadano avanti così e insomma che il lavoro proceda coerentemente con quello che abbiamo sempre fatto. Le disdette si registrano per lo più per cene di lavoro, la paura dei contagi e il super green pass che esclude i non vaccinati frenano le prenotazioni. Sicuramente sono disdette ma non tanto riguardo al super green pass, ma anche proprio perché qualcuno è stato contagiato, quindi hanno messo in quarantena o la classe piuttosto che la squadra di calcio, quindi tavolate anche di un bel numero disdicono. Abbiamo poche prenotazioni rispetto agli altri anni verso Natale, il pranzo di Natale oppure il cenone, proprio perché forse vogliono aspettare l'ultimo per vedere un po' come si evolve la situazione. I clienti prediligono piccoli gruppi e i ristoranti contano sulla clientela tradizionale. Io dico sempre che non bisogna perdere memoria di quello che abbiamo passato, quindi la cosa importante dico sempre è rispettare, fare il nostro dovere, lavorare con il sorriso. Un sorriso che non manca anche se nascosto dalla mascherina.